il muro di luce ha fatto le vizie? tutto a posto perché? ieri il vento era così forte che temevo avrebbe sfasciato il muro il muro di luce sembrava instabile l'ho visto anch'io, ma l'olio di balena costa e i serbatoi stanno svuotando il vento è imprevedibile che succede qui? si ha aperto questa porta non 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 Grazie a tutti.